La città che verrà, visione di futuro. Ieri noi di Rete Veneta abbiamo aperto il dibattito tra cittadini e istituzioni sulla riqualificazione dei parchi, delle piazze, dei quartieri. Torneremo ad approfondire anche con le vostre voci quelle dei vicentini, dei nostri telespettatori. Ma oggi apriamo il confronto sui parcheggi, un tema caldo, anzi bollente per i commercianti, ma anche per chi nelle ore libere o in quelle di lavoro vuole o deve raggiungere il centro storico. Bisogna mettere parcheggi, dobbiamo mettere parcheggi a Vicenza perché qua se no noi commercianti al centro soffriamo. E se si vuole far venire la gente in centro bisogna permettergli di parcheggiare, parcheggiare in un posto sicuro, comodo, vicino, se no alla ripresa del centro storico è inutile. Negli ultimi 30 anni credo che le amministrazioni precedenti non abbiano, diciamo, non si sono interessate in un modo concreto al problema. Vedo invece che ci sono delle propulsioni positive negli ultimi mesi da parte di questa giunta e noi siamo molto felici se le decisioni che finalmente stanno prendendo riescono a essere compiute nei prossimi due o tre anni. Sarebbe una cosa positiva, credo, per tutti. Servono nuovi parcheggi. Col progetto TAV potrebbero nascerne due. Il primo a ovest vicino alla fiera, l'altro a est vicino all'ex foro Boario. Uno dei progetti lanciati anche da noi di Rete Veneta con i liberi pensatori nella nostra rubrica Filo Vicenza è quello di trasformare l'area dell'ex macello in un parcheggio. L'amministrazione ha sposato questa proposta che permette di sgomberare dalle auto la centralissima Piazza Matteotti. Siamo in una piazza particolare, Piazza Matteotti, quindi è super trafficata. Abbiamo qui anche il teatro olimpico, quindi è un luogo, diciamo, di cultura e speriamo che questo progetto che c'è in ballo vada in porto perché, insomma, ci porterebbe una buona fetta di clientela. So che il parcheggio a Piazza Matteotti dove c'è l'ex macello vorrebbero fare un parcheggio. Bisognerebbe anche studiare un parcheggio per le corriere che arrivano con i turisti e di solito so che li fanno scendere e poi devono tornare in Viale Roma per andare a prendere. Ci fosse un punto per corriere. Non si parla mai del fatto che i commercianti, per esempio, e quelli che hanno investito in un'attività imprenditoriale non abbiano diritto, per esempio, ad avere un abbonamento anche per poter parcheggiare e poter lavorare. Questo non si affronta mai questo problema qua. Piazza dell'erba è riportarlo un attimo a fare circolare un attimo le macchine e fare anche un po' di posti auto. Speriamo che tutti i progetti che si sono fatti fino adesso vengano realizzati e non sia solamente una parola magica, tanto per buttare negli occhi o nella testa o nel cervello a tutti quei commercianti che si sono impegnati per il centro storico e per la città.